Nessun autovelox sarà installato in via Carducci e se qualche gruppo consigliere afferma il contrario fa cattiva informazione. L'amministrazione replica quanto affermato dal gruppo Lealia Spezia circa una delibera digiunta dell'ottobre scorso che mirava ad installare un autovelox in via Carducci. Oggi apprendiamo, affermano i consiglieri Mellei e Centi, che appena un mese dopo il sindaco scrisse al prefetto per richiedere l'autorizzazione alle installazioni di autovelox in via Carducci e sulla via Napoleonica. Autorizzazione pervenuta lo scorso mese di marzo. Installare tutor autovelox è una possibilità che nasce non certo dalla volontà di fare cassa ma ai fini della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini. Questa è la risposta di Palazzo Civico che precisa come in realtà si tratti di una possibilità ma non certo dell'installazione di cui, nel caso, l'amministrazione avrebbe informato i cittadini. Non abbiamo nulla in contrario sull'installazione di autovelox o tutor sulla Napoleonica alla luce dei ripetuti incidenti anche mortali verificatisi negli ultimi mesi. Nutriamo forti dubbi sull'effettiva necessità di collocare l'autovelox su via Carducci. Questa è la replica di Leali alla Spezia. Sul raccordo autostradale di via Carducci i sinistri non sono più di 20-25 l'anno e per lo più si riferiscono a tamponamenti per code da traffico intenso. Così concludono Mellei e Centi.